Voglio sentire dall'altra parte cosa sente lui e lui mi ha risposto, io ti do le non risposte, queste sono state. L'ultima volta che ci siamo sentiti, l'ultima volta, perché ogni volta che provavo a risponderti, Ida, tu fraintendi sempre, qualsiasi cosa, e voglio dire la dimostrazione, l'abbiamo data anche qua, io dico una cosa e tu ne capisci un'altra, tu dici una cosa e io ne capisco un'altra. Io capisco benissimo, guarda, io non è vero che non capisco, io capisco benissimo, e anche alla svelta capisco. Non capisco quanto io di essere felice, e probabilmente insieme non ci riusciamo. Vabbè, questo è l'appiglio, dove ti vuoi appigliare, che dire problemi, quali problemi c'è? È la realtà. Dimmene uno, elencarmelo, elencami questi problemi immensi che tu, un uomo, non sai superare. Se vado a tirar fuori un esempio, so quello che torna indietro sul passato, capito? Ho capito, ho capito, ma penso che lei ti stia cadendo un'altra cosa, dimmi che non sei innamorato di me, dimmi che non ti interesso più di tanto perché io devo cambiare, devo rassegnarmi. Ho pensato per un momento che tu lo fossi ancora. Giusto, giustissimo, merita risposta. Io non sono più innamorato come ero prima. La meriti questa risposta, è giusto che tu lo sappia. Io pensavo di fare le cose in modo graduale, non è possibile, abbiamo ripreso come avevamo lasciato. Ida, non ce la faccio, preferisco chiudermi di nuovo. Io non sono più innamorato come avevamo lasciato.